Ecco chiude, ho fatto a spiegare la carta, le telefono, la destra e la telefono. Ma quando cominci oggi? 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 Che hai fatto a spiegare adesso? Quella che fai? Che fai? Che ho fatto a spiegare con Pippo che non capisce niente. Gli ha detto fai così, fai tolanda. No, ma non si trova, infanzi. Non è che sto così? E' bello, che è tutto qui? Anche la peste. Però mi vuole fare che fai così? Ecco va, bello, bello. Non è che vado a fare l'asso? Ecco, vieni a me, io non c'è. Ma chi è? Ma qui è che vuoi? Cominciano oggi Cominciano oggi